Da una parte la soddisfazione dei forzisti, dall'altra le critiche dell'opposizione e l'imminente rimpasto di giunta porta con sé inevitabilmente pareri e posizioni differenti. Il rientro di Forza Italia ormai è cosa fatta? Abbiamo fatto le nostre valutazioni e messo sulla bilancia pro e contro, dice Enrico Cenetiempo, capogruppo degli Azzurri in Consiglio Comunale. Ragionando abbiamo cercato i profili migliori e abbiamo proposto Pierangelo Gervasoni e Livia Cioffi, due persone di esperienza e grande competenza per ricomporre il centrodestra uscito vincente dalle ultime amministrative. Dura presa di posizione invece delle opposizioni, tra i primi a intervenire il PD con le parole del capogruppo Stefano Fanetti. Stupisce che il sindaco si sia prestato a questa situazione e sono curioso di leggere le motivazioni delle dimissioni dell'ormai ex assessore. Spiega, è chiaro che si è trattato di un passo indietro indotto, è andato in scena uno squallido teatrino, sui due nomi proposti non posso dare un giudizio negativo a prescindere, si tratta di persone di esperienza, ma è proprio come è stata gestita questa partita che fa capire tante dinamiche. Inoltre, parlando di cultura e turismo, conclude Fanetti, mi sembra evidente quanto questi due settori così importanti per la città siano stati sviliti da questa amministrazione. Molto preoccupato proprio per questo assessorato è anche Fabio Aleotti, capogruppo del Movimento 5 Stelle, che ad esempio pensa alla mostra delle monete d'oro a cui Gentilini stava lavorando. Con le dimissioni di oggi è chiaro che i giochi sono fatti, dice, il dispiacere legato alla mancanza di progettualità e continuità nel mondo della cultura. Un plauso a Livia Cioffi, che si è messa in gioco in un impegno così delicato, vedremo cosa riuscirà a fare nel tempo che resta questa amministrazione. Sono veramente amareggiata, è evidente che Gentilini è stata messa nelle condizioni di dimettersi da chi oggi la elogia nella nota per le sue qualità, aggiunge Ada Mantovani, gruppo misto. Fa parte della politica, lo so, però onestamente questo modo di agire non corrisponde alla mia visione. Il tutto, conclude, per favorire una forza politica che ha tenuto più volte in stand-by il sindaco. Forse, chiude Mantovani, sarebbe stata più onorevole una dimissione in blocco di sindaco e giunta piuttosto che andare avanti così.